Tre baseleghe nel mirino dei ladri d'appartamento furto qualche sera fa in via Puccini. I malviventi hanno aspettato che i padroni di casa uscissero per intrufolarsi forzando una finestra. I ladri hanno quindi messo a soccuadro l'abitazione trovando alcuni monini d'oro e un paio d'orologi. Al rientro la mara scoperta e non è restato altro che chiamare i carabinieri che stanno indagando sul caso.